La tua passeggiata finisce qui. Non ti lascerò passare, costi quel che costi. Intrappolato in un enorme castello terrificante, eh? Oh, il povero Potter sta per mettersi a piangere. Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Ah, ti darò una bella lezione, Potter. Cominciamo con i petardi magici. Non uscirai da questo castello finché non avrò avuto la mia vendetta! Tiger, occupati di questo rammollito! Adesso, Potter, ti farò assaggiare i miei super petardi magici! Hovi italiano! Ti ag办! Tiago, potregno, potregno, potregno! Ehi! Naordsini! Tiger, sei un idiota! Dovresti proteggermi! Goyle, vieni qui! Adesso faremo vedere a questo pagliaccio chi sono i veri maghi! Non è vero, non è vero! Donato Potter, la prossima volta non sarai così fortunato. Nel frattempo le clessidre che indicano i punti delle case si stanno lentamente riempiendo. Corvo Nero, Tasso Rosso, Serpe Verde, Grifondoro. Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti. Riuscirà Serpe Verde a vincere il trofeo per il settimo anno consecutivo? Ciao Harry, sono io, Hagrid. Che piacere vederti. Questi sono i giardini del castello di Hogwarts. E io naturalmente sono il guardacaccia. Devi recarti alla lezione di erbologia. La professoressa Sprite ti sta aspettando nella serra. Passa dalla mia capanna per una tazza di tè. C'è una cosa di cui ti vorrei parlare. La mia capanna si trova nei giardini. Filippen! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una volta avevo un paffutolo, ma Fred e George lo usavano come bolide in allenamento. Grazie a tutti. 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 Ah! Grazie a tutti. Ottimo lavoro, Harry! Hai raccolto tutte le gelatine e tutti i gusti più uno. Come ricompensa, eccoti una figurina streghe e maghi famosi. Eccoti qui. Grazie a tutti.